Musica Semplificazione urbanistica, sì alle modifiche Via libera alle cure domiciliari fuori regione Un minuto di silenzio per le vittime di Brandizzo Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati Semplificazione urbanistica, via libera da parte dell'Aula alle modifiche Approvata maggioranza dall'Assemblea la modifica alla legge sulla semplificazione urbanistica del maggio 2022 Il disegno di legge 267 è stato presentato dalla Giunta regionale in seguito all'impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri del testo iniziale Dopo numerosi momenti di confronto tra il promotore della legge, il consigliere Walter Marin e gli uffici dei diversi ministeri interessati si è arrivati a una diversa formulazione di 14 articoli che ha soddisfatto entrambe le parti, soprattutto sul riuso edilizio la riqualificazione di edifici già esistenti e la rigenerazione urbana Restano invece in sospeso i 7 articoli della legge ancora oggetto dell'impugnativa del governo Su questi si pronuncerà nei prossimi mesi la Corte Costituzionale Tali articoli si riferiscono all'adeguamento da parte dei comuni dei singoli piani regolatori al piano paesaggistico regionale Penso per necessità di chiarezza nei confronti di piemontesi, dei professionisti, delle imprese di dire ma forse qui se c'è un dubbio tanto vale che sia la Corte Costituzionale ad esprimersi Se tu decidi di togliere una casa in area esondabile e spendi dei soldi per demolirla e spostarla in un'area sicura credo che sia molto meglio essere certi che quello che stai facendo è legittimo e nessuno te lo possa contestare Un liberi tutti che potrebbe essere molto pericoloso per l'ambiente, per i nostri paesaggi per la bellezza dei nostri territori, dei nostri comuni, dei nostri borchi Insistere in questo modo significa ulteriormente perdere del tempo Quando una legge ti viene dichiarata per la metà, oltre la metà a rischio di costituzionalità vuol dire che forse qualcosa non ha funzionato Questo provvedimento ridurrà le nuove costruzioni Non vogliamo colati di cemento, vogliamo dare risposte ai cittadini Tuteliamo ciò che è già edificato Ha dichiarato in aula il capogruppo della Lega, Alberto Preioni Questa legge introduce elementi di flessibilità e di semplificazione ha sottolineato Paolo Ruzzola, capogruppo di Forza Italia Silvio Magliano, moderati, ha poi sostenuto la necessità di superare il piano paesaggistico sul tema delle vasche terapeutiche per l'idroterapia per i disabili Nella discussione sono intervenuti anche i consiglieri Giorgio Bertola, Europa Verde e Silvana Cossato, Liberi Uguali Verdi Accedere alle cure domiciliari fuori regione diventa più semplice e veloce Approvata all'unanimità da parte dell'Aula la proposta di legge sulle cure sanitarie domiciliari fuori regione Un provvedimento mirato a semplificare i procedimenti di richiesta e a fornire una risposta importante alle persone affette da gravissima disabilità come ha spiegato il primo firmatario Alessandro Stecco, Lega Stiamo parlando di disabili gravissimi, di persone tetraplegiche di persone che hanno bisogno di un'assistenza continua a casa e che attualmente spostandosi rischiavano di non avere questo tipo di trattamento o di supporto La legge prevede l'apertura di sportelli telematici a cura delle asle di residenza e l'approvazione d'intese tra le aziende delle diverse regioni La Giunta stabilirà i criteri e i requisiti per individuare gli aventi diritto e le modalità di attivazione delle procedure Relatore di opposizione, il capogruppo del Partito Democratico, Raffaele Gallo Abbiamo voluto dare via libera veloce a questo provvedimento perché lo condividiamo è un disegno legge, diciamo quadro, se vogliamo dire così che demanda molti aspetti a norme che dovrà fare la Giunta e le asle di competenza, ma confido che su questo saranno molto celeri Un minuto di silenzio in aula in ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo Il Consiglio regionale del Piemonte ha commemorato con un minuto di silenzio le cinque vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto in cui hanno perso la vita Kevin Laganà, 22 anni Michael Zanera, 34 anni Giuseppe Sorbillo, 43 anni Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni e Giuseppe Versa, 49 Si faccia il più presto chiarezza sulle responsabilità ha affermato Stefano Allasia, presidente dell'Assemblea legislativa Una tragedia immane che ha spezzato la vita di cinque persone che stavano semplicemente facendo il proprio lavoro Confidiamo che venga fatta luce sulla responsabilità di questo disastro ed esprimiamo il più sentito cordoglio e la grande vicinanza del Consiglio regionale a tutte le famiglie delle vittime La situazione è sotto controllo La presenza costante di un numero ingente di maestranze e l'allestimento di una guardiania diurna e notturna impedisce le occupazioni Questa è la risposta dell'assessore alle politiche della Casa Chiara Cauccino all'interrogazione presentata da Daniele Valle Partito Democratico sulle case ATC occupate abusivamente in corso racconigi a Torino Gli stabili sono dotati di accessi blindati ma si sta procedendo con la chiusura definitiva con opere in muratura Valle ha chiesto anche notizie sullo stato della ristrutturazione L'assessore Cauccino ha risposto che in sei palazzine i lavori di efficientamento sismico ed energetico sono in stato di avanzamento La fine dei lavori è prevista per il 31 dicembre Per i due edifici rimanenti i lavori inizieranno a breve I danni causati a Bardonecchia dal nubifragio e dalla conseguente colata di fango ammontano a 25 milioni di euro A un mese dal nubifragio di Bardonecchia si contano i danni che secondo il Comune ammonterebbero a circa 25 milioni di euro E quanto ha riportato in aula l'assessore regionale alla difesa del suolo e protezione civile Marco Gabusi in risposta al question time del capogruppo del Partito Democratico Raffaele Gallo sui tempi in cui verranno stanziati gli aiuti per il ripristino La scorsa settimana il presidente Cirio ha inviato al Dipartimento di Protezione Civile un'integrazione e la richiesta di stato di emergenza il rapporto dell'evento, le ordinanze emesse e la stima dei danni ha precisato l'assessore Gabusi Il sopralluogo del Dipartimento è previsto entro la fine di settembre Rispetto all'ammontare dei danni il dettaglio fornito dal Comune di Bardonecchia indica circa 145 mila euro di assistenza alla popolazione 1 milione 750 mila euro per il ripristino di servizi essenziali 21 milioni 500 mila euro per interventi che mitighino il rischio Manca al momento la stima dei danni ai privati e alle attività economiche e produttive L'aeronautica militare compie 100 anni Cento anni dell'aeronautica militare Questo è il titolo della mostra che il Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con la Fondazione AMMA ha voluto organizzare in occasione del centenario dell'aeronautica militare che sarà celebrato con un air show che culminerà con l'esibizione delle frecce tricolori in programma il 16 e 17 settembre all'aeroporto di Torino a Air Italia Nasce qui il primo aeroclub d'Italia e oggi cent'anni di aviazione militare le festeggiamo assieme al Consiglio regionale con la mostra Palazzo Lascaris e con sicuramente come vedrete sulle nostre teste questo weekend le frecce tricolori che frecceranno sopra Torino e sopra il Piemonte per festeggiare tutti assieme La mostra, allestita negli spazi della Galleria Spagnolo e all'URP del Consiglio regionale del Piemonte è visitabile dal 18 settembre al 20 ottobre dalle 9 alle 17 con ingresso gratuito e rappresenta una linea del tempo che dalle origini conduce verso il futuro attraverso pannelli tematici che ripercorrono i primi cent'anni di storia dell'aeronautica militare dalla sua fondazione il 28 marzo 1923 mettendo in luce i fatti più significativi Sono passati poco più di 100 anni da quando un oggetto più pesante dell'aria ha preso il volo e ha preso il volo grazie a aziende metalmeccaniche Quando abbiamo avuto le prime interlocuzioni con il Consiglio regionale abbiamo avuto una pronta risposta e un sostegno nel realizzare quella che a Torino è stata una mostra documentale di pannelli già realizzata a Roma dall'aeronautica militare che ci ha fornito i materiali quindi una collaborazione molto fluida ed efficace Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti